Salve a tutti, sono TheBannerTube In questo video vi farò vedere come scaricare Penumbra Overture in italiano Allora per prima cosa Andiamo su questo link Che vi metterò in descrizione Una volta aperto questo link Ci troveremo in questa pagina Cliccheremo su Get this torrent Clicchiamo Facciamo avvia applicazione E si avvierà utorrent Se non avete utorrent Lo scaricate dal sito ufficiale Vi lascerò il link in descrizione La procedura di installazione è facilissima Lo installate e così potete iniziare a download La pagina vi si presenterà così Pesa pochissimo Ci metterete 5 minuti neanche Fate play qui in alto E lui comincerà a scaricare Una volta fatto questo procedimento Avrete questi 3 file A noi interessa solo l'archivio RAR Faremo estrai qui Metto in pausa Rieccoci Vi si presenterà questa cartella Apriamo Ci sarà un file chiamato OA-linst Che sarà un file di installazione Clicchiamo Facciamo ok Ok E diamo l'ok su installazione completata Dopo aver fatto questo procedimento Torniamo indietro Ah no Scusate Sempre su questa cartella Andiamo sulla cartella Redist E avvieremo il gioco da applicazione Che sarebbe questo A questo punto basta andare sulle opzioni Selezionare la lingua italiana E il gioco funzionerà perfettamente Se avete dubbi O avete qualche problema Commentatemi Se vi è piaciuto il video Lasciate un bel mi piace Da TheBannerTube E' tutto Alla prossima